C'era qua delle bustine che mi chiamavano e così ho detto why not perché non spacchettare un po' che era da un po' che non si faceva un bel video in cui si spacchettava così alla pazza gioia E vediamo un po' allora che cosa si va a trovare, prima bustina, vediamo un po' se ci porta bene, iniziamo con un exem codificatore trasmittente signori e mecca vagliere stella gialla Abbiamo anche del bel prigione, direi che partiamo già bene, ci piace Primo punto a favore della fortuna Vediamo un po' se ci porta bene Drago tripla esplosione signori, veramente quel genio di Clifford ma Drago tripla esplosione Due ultra, signori, spettacolo Vediamo un pochino E beh, non è che può essere sempre domenica Ci accontentiamo del potere dei guardiani Ci servolina che non volevano aprirsi queste Vediamo un pochino lo zombino E il curioso Oddio curioso, il sovrano fedele della luce Curioso questo nome Ups Protezione di Nagel Vediamo un po', vediamo un po' Altergeist, attenzione Altergeist E qui Chi Frequenta Cars Capital City Sa Che il Boomska Ora gioca Il mazzo basato sugli Altergeist Vediamo un po' Vediamo un pochino Una medusa mitica bestia Siamo partiti in quinta con le prime due buste Due buste, due triple Due buste, due baci Vediamo un po' Vediamo un pochino Se ci porta bene questa Zefra Metalton Attenzione Speravo non era una bella Tigre Che cosa col botto E qui per ora ci stiamo accontentando delle due Ultra rare E Un'altra Altergeist Sempre utile per il mazzo di sca Occhio al tiro alla pratica Eh sì perché tiro alla pratica Dove? Ho tirato E vediamo un po' Attenzione E abbiamo un Mech Cavaliere Crepuscolo Viola Abbiamo tirato fuori anche la Secret Dai Chissà se ci dirà Ancora meglio di così Niente c'è C'è la Metaltron Che ci sta perseguitando ragazzi Con la sua danza Dai Spusta, 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 spusta Abbiamo il vent'errore Signore della battaglia Questa gloria dei nobili cavaliere Ecco qua Qui signori Già mi sento un attimino più soddisfatto Ho visto lo sbrucicchio Non ho saputo resistere Sono andato in botta Alla Secret ragazzi Abbiamo il Pesan Metalfosi Electrumite Mi odiano Io lo so che mi odiano Però io c'ho piacere Che intanto questa L'abbiamo sbustata ugualmente Alla grande Vediamo un po' Siamo quasi addirittura d'arrivo E Basta Oltre per dell'Altergeist Nuovo E sono contento così E sicuramente poi ne giocherò Monocopia nel mazzo Però vabbè Almeno il 3 percerò E qui vediamo cosa ci porta bene Il Meccavaliere Eclisse Indaco E il Drago Metal Mizzile E il Drago Metal Mizzile Adesso farà contento Giorgio Ciao Signori Ultima busta Riuscirò a fare un botto superiore Adesso la godiamo con calma Abbiamo la protezione di Nagel Abbiamo il F A Trasporto Motoabitativo Burattinaio Vatticinetico F A Giro di prova Abbiamo il Meccavaliere Stella Gialla E eredità Del mondo scudo Nel mondo Carne a blocco Danza dai E A Cipicchiorina Fidiamo con l'Eclisse Indaco Beh Comunque sia Diciamo che Nel complesso Non ci lamentiamo Di queste buste Abbiamo Le nostre Due belle Secret Due belle triple Direi che Per sto giro Ci riteniamo Strasoddisfatti così Alla prossima